Ciao ragazzi, vogliamo dirvi che alle 5 faccia... Ragazzi, vogliamo dirvi che alle 5 dice... Aspetta! Allora, volevamo dirvi che alle 17 preciso, con il microfono ovviamente, come avete visto ieri mattina quando ho cattato Tony Colombo, domani, anzi ora, verso le 5, altre 2 ore, Merania canta una canzone di Mary Cervone. No, Mary Cervone. Alessandra Amorosa. A Natale, ti chiami Mary Cervone. No, no. Eh, sì, Mary Cervone. Vabbè, vai, mi arrende con Mary Cervone. Mary Cervone, io canto Vincenzo Marollo, grande Vincenzo Marollo che non canta più perché lo salutiamo. Ci vediamo alle 5, tutti quanti, però... Facciamo due video comunque, facciamo... Cosa ne pensiamo dei YouTubers e cantiamo. Va bene, però ragazzi, iscrivetevi al canale. e quindi vi volevamo dire solo questo. Scusate se il video è poco, ma tra poco gli facciamo due video. Va bene ragazzi, ci vediamo adesso. Comunque ci dispiace che non ci avevamo visto da vari giorni, ma è perché... Allora, aspetta, in quale video ti hanno vista? Vai, facci sapere. Allora, nell'altro video. E se mi volete, ancora, ancora negli altri video, mettete... 9.000 like e vi farò un video con me, ve lo giuro. Ve lo giuro ragazzi, quindi mettete 9.000 like e farò questa cosa. Nella 9.000 like, non può mai succedere, non sei. Allora è 900. 8.000 like, non è 100.000 like, non è 100.000 like e non è 100.000 like. No, 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 basta. Ora se li accento mi piace, allora vi vengo io. Capito? Sì, però sono sempre di tosse un'ala Ok Allora, dopo mangiato faremo Il video che ne penserete Degli youtuber Ci vediamo, ciao Anzi, dove vorrei poi mettere il video?